e alla fine con il dritto vince Sbaglia ancora Djokovic Eh che bravo Eh ragazzi va Devi giocare correttamente Due palle break E alla fine sbaglia ancora Djokovic L'altro veramente fatica Stacca Djokovic Eh chiude bene Sì raramente ha superato i 200 Abbiamo ancora visto No arriva il contro break Contropiede vincente Il diritto di Djokovic Rete Djokovic Ah esagera Uh sbaglia di dritto Djokovic Beh ultimo game disastroso del numero uno del mondo Che alla fine va a perdere contro Andy Murray Lo scozzese approda in finale Al torneo ATP 500 di Dubai In un'ora e ventidue minuti 6-2-7-5 Il punteggio finale Il sudrago Be探査 Be "' ... Be ha Be Be